gentili telespettatori giovedì l'incontro forza italia lega si materializza un'altra pagliacciata ma di quelle grosse che cos'è l'incontro lega forza italia e forza italia durante l'incontro tra i tre leader quella pagliacciata che hanno fatto a villa grande forse perché è una grande buffonata dove berlusconi ha voluto parlare a salvini e meloni dicendogli guardate che io sono il professore o il doppio dei vostri anni voi siete gli allievi e insomma dobbiamo trovare anche un leader del centrodestra perché voi siete troppo caratterizzati no troppo caratterizzati io con delle parole del genere mi sarei alzato e scusate scusassero scusate ma devo andare a casa forse ho dimenticato di chiudere la porta e me ne sarei andato via lasciando lì berluscao meravigliao e l'altro che si mettessero d'accordo loro beh comunque salvini prende da parte berlusconi gli dice mi fai fare il capo del centrodestra di governo salvini che si presenta al vertice tra conoscenti amici in alta uniforme giacca cravatta camicia bianca come se stesse andando a un colloquio di lavoro salvini ormai è preso dal vortice del riaffermare che lui è il capo quindi si veste da capo giacca cravatta chiede mi fai fare il capo del centrodestra vuole fare il capo non l'ha mai fatto fino adesso il capo del centrodestra perché ha sempre fatto il capo della lega adesso è preso dal vortice del di fare il capo perché i sondaggi lo danno come terzo partito allora chiede a berlusconi di poter fare il capo berlusconi che vuole essere eletto al quirinale e secondo alcune voci avrebbe già trovato quasi tutti i voti non può permettersi che salvini e meloni non lo votino anche se poi gli va a dire che non sono in grado di fare il capo politico che lui sta cercando tra i suoi amici c'ha già tre persone che potrebbero fare il capo politico ma ma silvio ma come fai a pensare a una roba del genere come fai a dire a due partiti che hanno il 20 per cento tu che hai il 6 e voi non siete in grado io ho il doppio della vostra età vi insegno manco le basi silvio ma hai 85 anni una grande carriera da imprenditore e mi cadi e mi cadi sull'abc delle relazioni interpersonali vai a dire a due che litigano per fare i leader che non sono in grado di fare i leader silvio silvio proprio non ci siamo non ci siamo vabbè il vertice di giovedì è fatto perché berlusconi e salvini devono dire ai sei ministri tre della lega e tre del di forza italia che devono fare riferimento a salvini devono mettersi d'accordo con lui che praticamente lui è il capo del centrodestra di governo fantastico i tre ministri hanno detto ma che ma che una seduta psicoanalitica non ci faremo comandare da salvini né al vertice né nei ministeri hanno capito i tre ministri di forza italia che berlusconi li sta vendendo per andare al quirinale e arriva fedriga già abbiamo parlato del grande zaia che dice che la lega di lotte di governo è giusto ha capito niente arriva fedriga il vicino l'altro presidente di regione che dice nel centrodestra dialogo ritrovato ma che stai a dire ma quale dialogo ma ti sembra un dialogo questo dove uno dice gli altri due che non sono capaci e l'altro gli dice mi fai fare il capo del centrodestra ma mi sembra ma quale federiga ma quale dialogo ritrovato il dialogo che il dialogo tra tra vabbè insomma atteso giovedì questa questa pagliacciata del centrodestra di governo in questi giorni secondo quanto riportato dal corriere della sera antonio tagliani ha lavorato senza sosta immaginatevelo che lavora senza sosta per ricucire lo strappo interno agli azzurri tra ministri e vertici del partito tagliani che sa perfettamente il giochino di berluscao di regalare i ministri alla lega che c'è bisogno di salvini con la gioca e cravatta che gioca a fare il capo per competere con la meloni tagliani che è un dipendente di berlusconi alla fine alla fine così deve tenere le parti di berlusconi allora lavora giorno e notte per convincere i ministri che non è vero ma va non è vero niente berlusconi mica mica lo fa per andare al quirinale insomma che brutte posizioni quelli di essere dipendenti da un capo politico che brutta cosa dover dire sì signore tagliani metti a posto le cose sì sì ci penso io che tristezza e poi arriva le parole della responsabile dei rapporti con gli alleati la responsabile dei rapporti con gli alleati lì c'era un zulli che sottolinea la necessità di una maggiore sinergia aggiungendo che se il coordinamento si fosse svolto prima saremmo andati tutti nella stessa direzione anche sul green pass ma non è vero ma non è vero dunque la barra azzurra appare rimessa in linea dopo le sortite dei giorni scorsi non è vero non è vero anche la ronzulli cerca di assecondare il capo perché è il capo che decide poi chi sta in parlamento e chi ha finito la carriera nell'immediato pure i due partiti che stanno nel governo la necessità di non apparire sfilacciati eccetera eccetera la volontà di serrare le file ma non c'è nessuna volontà vabbè insomma fedriga nel centrodestra vedo un ritrovato dialogo non c'è dubbio che in passato ci siano stati momenti di poco confronto e di maggior tensione però penso che sia una cosa normale quando ci sono più anime e sensibilità che si confrontano ha confermato ieri massimiliano fedriga su rete 4 a stasera italia soffermandosi poi sul tema dei rapporti interni al governo dice non vedo chiusure verso di noi o aperture verso altri c'è un confronto settimanale con salvini sono più che ottimista che si raggiunga una soluzione sulle sulla previdenza e sulla tassazione non vedo figli di un dio minore in questa coalizione dice dice è chiaro che le soluzioni non sono lineari come quando c'è una maggioranza uscita dalle urne quindi lui vede un ritrovato dialogo qual è il dialogo salvini che dice che giorgia meloni rompe i coglioni o salvini che chiede a silvio mi fai fare il capo del centrodestra al governo perché devo sentirmi un po capo e questo il ritrovato dialogo berlusconi che dice voi non siete in grado siete troppo caratterizzati devo trovare un mio amico che fa il capo del centrodestra e questo federica il ritrovato dialogo alla faccia del dialogo slap 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 arrivederci a tutti e grazie